La combinazione innovativa TNC640 per fresare e tornire. Per la prima volta un controllo numerico TNC combina le lavorazioni di fresatura e tornitura. Il nuovo TNC640 trova impiego su macchine utensili per lavorazioni complete di fresatura e di tornitura. Già a prima vista conquista per il raffinato design con la pulsantiera di nuova configurazione, l'elegante struttura in acciaio inox e il video da 19 pollici. Heidenhain tuttavia convince come sempre per le qualità intrinseche che consentono di passare con praticità e semplicità dalla lavorazione di fresatura a quella di tornitura e viceversa. Per la fresatura il TNC rimane pressoché immutato. Per la tornitura, inclusi gli apprezzati cicli, molto è stato ripreso dalla funzionalità dei controlli numerici per torni di Heidenhain. I profili di tornitura vengono creati nel dialogo con testo in chiaro Heidenhain e possono essere archiviati proprio come per la fresatura e la foratura in sottoprogrammi. Con Smart Select è possibile selezionare le funzioni con rapidità e semplicità, grazie anche ai dialoghi di supporto. Il software Kinematics Opt, un ciclo di tastatura del TNC, consente di misurare gli assi rotativi o di ricalibrarli con massima facilità e praticità, incrementando così l'accuratezza per la lavorazione inclinata e simultanea a 5 assi. Il TNC 640 vanta caratteristiche ottimali per assicurare la massima accuratezza e qualità superficiale, in fresatura e tornitura ad alte velocità di traslazione. Il TNC 640 vanta caratteristiche ottimali per assicurare le funzioni con effetti di riscaldare le funzioni con effetti di riscaldare le funzioni con effetti di riscaldare le funzioni con effetti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!